Il direttore generale del Magliar di Firenze, Alberto Zanobini, è stato eletto all'unanimità nuovo presidente dell'Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani. Guiderà la OPI per il triennio 2021-2023. L'associazione, da 15 anni, ha per finalità il coordinamento di iniziative atte a promuovere lo sviluppo culturale, scientifico e gestionale delle strutture assistenziali ad alta specialità dedicate all'area materno-infantile e all'età evolutiva nel nostro paese. Ne fanno parte i cinque ospedali pediatrici più avanzati, ovvero Bambini Gesù di Roma, Gaslini di Genova, Maier di Firenze, Santo Bono di Napoli e Burlo Garofalo di Trieste, i maggiori dipartimenti pediatrici italiani, oltre ai presidi ospedalieri pediatrici presenti all'interno di Policlinici. Questo compito, ha spiegato Zanobini, rappresenta per tutto il Maier e per me una sfida importante che porteremo avanti con impegno e determinazione. La collaborazione tra le realtà pediatriche coinvolte in prima linea nella cura dei piccoli pazienti è la chiave per riuscire a migliorare sempre di più la qualità dell'assistenza che offriamo ai bambini e alle loro famiglie. I bambini hanno diritto a poter contare su un adeguato setting pediatrico che sia uniforme in tutto il nostro paese, ha aggiunto Zanobini.